il figlio è fantastico luigi a che mi combina luigi a rubè non l'ho visto rubè ma come fai a vedere lo scoglio così grosso luigi alberto attento arrivo e eccoci qui la guida esclusiva del parco ciao a tutti sono giuseppe dettori sono spenelle delfini comuni no questi sono i tursiopi insomma oggi è una bella giornata di sole c'è stato qualche giorno di nuvolo però nel complesso la saldò in america